Allora maestro buonasera, guardi qui siamo all'inaugurazione, questa è Verona, qui c'è Luciano e come sempre Luciano è il numero uno, qui ci sono un sacco di gente, un sacco di complimenti, Luciano ti vuole dire qualcosa maestro? Dentro ci sono 280 persone, la contate la signorina quella che fa i biglietti, allora vuoi sapere cosa beve? Bevo vero? Questo è un misto di Viagra Plus, non la vendono in nessun posto, stasera non so cosa succede quando io arrivo a casa, pora pora la mia compagna perché sicuramente la distruggo, guarda gli faccio l'ultimo tiro Ma stasera tu me mi novella con la compagna, scusa sbagliato, siamo all'inizio Carmelo Siccome è un po' forte, sono mezzo ubriaco, allora si tratta di domani se ci arriviamo ancora, capace dopo domani, ok Questa è Viagra signorina, Viagra Viagra? Viagra, bene Vasi già con la nostra Viagra? E cos'è? E cos'è? Viagra Si chiama così? Si chiama, l'ho inventato io, ci sono cose miste qui Buono? Buonissimo, vuole fare un tiro? Si Oh madonna, già è il mese in estasi, grazie Ciao ragazzi, ciao Ciao Ciao